Dottor Liberti, quali sono le prospettive future del real estate a suo avviso? Ma allora parlerei più che di real estate, di operazioni di M&A con sottostante real estate che è un po' più in linea con la nostra prospettiva come la Zara. Io citerei un macro tema che si sente spesso parlare di sofferenze bancarie, di crediti deteriorati bancari in misura pari a 350 miliardi di euro che è una cifra enorme. Meno di frequente si pone l'accento sul fatto che una buona parte di essi sono assistiti da garanzie reali su immobili. Per cui ritengo che il mercato delle menerie all'estate possa giocare un ruolo importante proprio nel più ampio riposizionamento del sottostante, riportare a performance la massa immobiliare retrostante e quindi in ambito più ampio nel gestire la questione dell'asset quality del sistema bancario italiano che è un tema rilevante. Se ne parla spesso sotto il profilo finanziario e di non performing loan meno secondo me dal punto di vista del contributo che diciamo il mondo delle menerie all'estate inteso come noi professionisti piuttosto che investitori, asset manager può riportare, diciamo può contribuire in questo. Molte grazie. Grazie.